Nuove regole per le partecipate. C'è qualche piccola modifica rispetto alla scaletta che conoscevate perché il Consigliere Fiorentino purtroppo è stato trattenuto a Palazzo Chigi da ulteriori sopravvenuti impegni. Ci diamo un'ora e mezza di lavoro, quindi per le 13.30 chiuderemo il lavoro e quindi io cercherò di far rispettare i tempi a tutti gli oratori. In sostituzione, spero congura, del Consigliere Fiorentino provo a fare una breve introduzione per cercare di dare un po' anche il senso complessivo della riforma della pubblica amministrazione e come all'interno di questa riforma si inseriscono i due testi unici sulle partecipate sulla riforma dei servizi pubblici locali perché sono due provvedimenti che vanno inseriti in questo contesto che a dire il vero non è composto soltanto dalla riforma della PA ma nasce con la legge 56, la cosiddetta legge del Rio, passa per la legge 124 e poi si conclude con la riforma costituzionale che è un po' la cerniera dentro la quale vengono conservate queste riforme dal punto di vista dell'aspetto istituzionale. Il tentativo che queste riforme vogliono cogliere è quello di riorganizzare il sistema istituzionale della Repubblica, un sistema istituzionale che in questi anni è molto cresciuto anche in modo disordinato, non governato, che oggi ci consegna una realtà molto complessa, 10.200 enti, oltre più o meno 10.000 partecipate, quasi 35.000 centri di costo, sono numeri che disegnano una struttura pubblica molto complessa sulla quale poi nel 2001 il legislatore costituente ha fatto una scelta importante, ha calato una riforma costituzionale che ha un po' se volete irrigidito un sistema che appunto era molto molto diffuso e molto articolato e quindi ha reso ancora più difficile cercare di vedere appunto il sistema pubblico come un sistema e non come una somma di enti e di competenze a volte o molto spesso conflittuali nella testimonianza e i tanti ricorsi davanti alla Corte Costituzionale. Quindi il tentativo che il Governo ha fatto, che la maggioranza in questa legislatura ha portato avanti è quello di da un lato ridurre il numero degli enti e quindi da questo punto di vista la riforma delle province, la spinta verso le fusioni, il testo unico sulle partecipate vanno in questa direzione. Il secondo tema è quello di cercare di ridefinire meglio l'articolazione delle competenze, cioè chi fa che cosa, consentire a chi guarda da fuori di avere una lettura più facile per capire quello che fanno i comuni, quello che fanno le città metropolitane, le regioni dello Stato e definire meglio qual è il riparto di attività che svolgono gli enti istituzionali e invece le società e gli enti privati che svolgono attività per conto degli enti stessi. Questo ad esempio in città come Roma oggi non è così facile. Altro tentativo quindi di riduzione degli enti, ridefinire chi fa che cosa, il terzo obiettivo è quello di dargli una nuova organizzazione, quindi mettere a servizio di queste funzioni una struttura organizzativa che sia un po' più puntata all'obiettivo e un po' meno puntata alle competenze. Il titolo quinto del 2001 ha esasperato, se volete l'ha stressato, la visione ex 117 della Costituzione ne ha sofferto un po' se volete l'articolo 3, cioè si è lavorato meno per rimuovere gli ostacoli, si è lavorato più per perimetrare le competenze fra singole amministrazioni. Ora con la riforma dell'APA in particolare con l'organizzazione delle funzioni sui territori il tentativo è quello di cercare di mettere insieme pezzi di amministrazione e tutti insieme metterle a servizio di funzioni. Questo sarà un decreto legislativo che verrà emanato ad hoc, sarà una delega esplicita che il Parlamento ha consegnato al Governo e sarà molto importante perché avrà degli effetti positivi sia sul lato della spesa, ad esempio sul lato del consumo di spazio pubblico, perché comunque è una Repubblica che occupa più o meno 20 milioni di metri quadrati di uffici pubblici, di proprietà, però nonostante questo paghiamo 2 miliardi l'anno di affitto, quindi vuol dire che non abbiamo anche qui una dimensione della nostra logistica fatta in funzione di una visione complessiva ma l'abbiamo fatta soltanto settore per settore. Appunto dentro questo schema e dentro questo contesto intervengono i due decreti, oggi ci occupiamo soltanto di quello delle partecipate, che anche qui ha alcuni obiettivi minimi sui quali poi chiederò ovviamente valutazioni e giudizi che saranno senz'altro entusiasti, immagino, dei nostri relatori e che cercano un po' di segnare un po' un passo rispetto al passato. Chi conosce, chi lavora in questo settore sa che la legislazione in questi anni ha preso strade diverse, molte volte anche contraddittorie. Prima c'è stata una spinta verso l'esternalizzazione, poi c'è stata una concorrenza e meno l'autonomia, conflittualità territoriali con una visione più nazionale. Allora noi ci saremmo posti una serie di obiettivi e vediamo se dalla discussione di oggi emergerà quale tipo di giudizio emergerà. Il primo era quello di fare chiarezza, cercare di fare chiarezza intanto dal punto di vista dell'applicazione delle norme e il decreto da questo punto di vista stabilisce in modo chiaro che il riferimento è il diritto civile. Il secondo obiettivo era quello di definire una funzione di monitoraggio, conoscenza del fenomeno delle partecipazioni che ci desse delle certezze maggiori di quante ne abbiamo oggi perché sapete meglio di me che nella banca dati del MEF, né quella dell'Istat, né quella della Corte dei Conti hanno oggi una conoscenza esaustiva del fenomeno, sia delle dirette che le indirette e questo comunque è un handicap perché ci penalizza, perché per poter fare delle politiche sarebbe opportuno avere una conoscenza più profonda del fenomeno. Il secondo obiettivo era quello di evitare dispersioni, sia di carattere economico, sia di risorse in generale. Nel 2013 il comparto partecipato perde 1 miliardo e 200 milioni di perdite portate a bilancio, se a queste aggiungiamo i contratti di servizio anomali e il valore delle tariffe che va a coprire in efficienze il miliardo e due è una cifra che è arrotondata molto per difetto. E allora proprio per evitare dispersioni ci sono una serie di misure che vengono prese anche abbastanza drastiche nel decreto legislativo, a cominciare dall'articolo 4 che pone un vincolo alla costituzione di nuove società o alla possibilità di mantenere partecipazioni. La necessità appunto di fare dei piani ordinari e straordinari che adesso dal punto di vista temporale dovremo sicuramente rendere più omogeneo proprio per i tempi che sono passati rispetto a quando il decreto è stato fatto. Stabilire delle procedure che chiariscano anche quali sono le responsabilità e la differenza di responsabilità fra amministratori delle società e amministratori degli enti partecipanti. È un tema molto complesso ma almeno dal nostro punto di vista la soluzione trovata è abbastanza chiara, se non sarà così ovviamente insieme al Parlamento cercheremo di migliorarla e più in generale cercare di porre un punto conclusivo speriamo per far diventare queste norme effettive. Questo forse è il lavoro più complicato per anche se volete approccio culturale nel nostro paese abbiamo una visione forse troppo normativista. Ogni volta che c'è un problema pensiamo che facendo una norma sia su un decreto legge o altro riusciamo a risolverlo. Poi abbiamo visto che invece non è così perché poi quello che avviene sui territori, quello che avviene o che è avvenuto nella pubblica amministrazione non sempre ha coinciso con quella che erano le volontà normative. Un pezzo importante delle soluzioni, degli strumenti che sono messi nel decreto legislativo cerca proprio di andare in questa direzione, cioè di fare in modo che questa previsione normativa trovi delle conseguenze effettive dal punto di vista dell'applicazione in modo naturale, cioè che siano i diretti interessati a farlo quando questo non avvenga, non dovesse avvenire, individuare degli strumenti che consentano comunque di fare in modo che ciò accada attraverso esercizio di poteri sostitutivi, attraverso delle sanzioni nei confronti appunto dei soggetti inadempienti. Questo è un po' il quadro generale. Io mi fermerai qui e darei la parola alla dottoressa Giulia Chieffo che è responsabile del servizio giuridico legislativo di Utilitalia. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, Utilitalia è l'associazione che rappresenta le aziende partecipate pubbliche che operano nei settori di energia, gas, acqua e ambiente, quindi una piccola parte dell'universo delle società partecipate a cui si riferisce il testo unico. Nel nostro piccolo siamo le società che forniscono quindi servizi pubblici locali ai cittadini. Come numero le società, anche se non c'è un numero esatto come stato anticipato, però quelle partecipate direttamente sono 1168, quelle che operano in questi settori che noi rappresentiamo. Come sapete benissimo uno degli slogan dell'attuale esecutivo era quando si parlava appunto del riordino delle società partecipate era da 8000 a 1000, quindi il raffronto tra le 8000 società esistenti partecipate e 1168 che si occupano di servizi pubblici locali vi fa capire che noi siamo una piccola parte dell'universo di quelle direttamente partecipate. Poi ci sono le indirettamente che non sono conteggiate né nelle 1168 né nelle 8000 e quindi di cui ancora non si conosce l'entità. Sicuramente per quanto ci riguarda il testo unico sia questo sia quello sui servizi pubblici locali, l'obiettivo di fare chiarezza e di costituire un quadro normativo intanto organico e poi speriamo stabile per noi è stato centrato perché basta vedere l'articolo sulle abbreucazioni per capire quanti micronorme avevamo sparse negli ultimi dieci anni che a volte anche in contrasto tra loro cercavano di regolamentare alcuni aspetti delle società partecipate, quindi non si faceva differenza e purtroppo ancora adesso anche in questo testo unico se ne fa poca secondo noi tra diverse tipologie societarie ovvero quando gli ultimi governi, insomma negli ultimi dieci anni sono state emanate norme soprattutto di spending review, le norme hanno come soggetti le società partecipate dalla pubblica di amministrazione. Queste società svolgono servizi diversi, hanno caratteristiche diverse, hanno situazioni patrimoniali diversi, scopi diversi, regolamentazioni diverse perché non scordiamoci che le società che fanno servizi pubblici locali sono, se va in porto l'articolo 16 anche del testo unico SPL che prevede l'attribuzione all'autorità per l'energia elettrica e il gas della regolazione anche dei rifiuti diventeranno tutte sottoposte a regolazione indipendente quindi energia elettrica, gas e acqua già sono regolate, trasporti anche, come dirà poi la collega e rifiuti a breve. Che vuol dire questo? Vuol dire che quando si vuole colpire l'inefficienza forse non è lì che bisogna guardare perché uno degli scopi della regolazione indipendente è proprio quella di promuovere l'efficienza e quindi anche nel riconoscimento dei costi nelle tariffe non si va a coprire il costo a piedi lista ma solo i costi riconosciuti efficienti. Ciò comporta che a meno che non si vuole pensare che l'autorità di regolazione non sa fare il proprio mestiere allora bisognerebbe rivedere l'attribuzione di competenze o il funzionamento vorrà dire che bisognerebbe dare un po' per buono che le società regolate siano efficienti perché se non lo fossero sarebbero diciamo sono comunque sottoposte a una regolazione che farebbe sì emergerebbero queste inefficienze e quindi non potrebbero essere mantenute in vita solo perché partecipate. Sono comunque operatori economici trattati dall'autorità al pari dei concorrenti privati quindi fin tanto che sono in vita e fin tanto che sono regolati dovremmo dare per buono il fatto che siano efficienti. Quali sono le misure che secondo noi sono invece un po' troppo orizzontali e quindi che non diversificano come invece ci aspettavamo anche perché era uno dei criteri che l'articolo 18 della legge delega prevedeva. Noi non abbiamo riscontrato una diversificazione secondo noi invece opportuna quindi speriamo ci sia ancora margine per poter intervenire tra società che esercitano un'attività per aver vinto una gara. Ora se una società ha vinto una gara che sia 100% pubblica o 100% privata vorrà dire che avrà dato prova di aver superato diciamo una grande prova di concorrenza perché sarà risultata migliore di altre società. Quindi a prescindere dalla composizione del capitale sociale bisognerebbe guardare anche al titolo in base alla quale questa società gestisce e quindi secondo noi bisognerebbe non dico escluderla dal tutto il testo unico ma quantomeno limitare l'applicazione di alcune norme a queste società che appunto hanno vinto una gara quindi o una procedura di evidenza pubblica o le società miste che da normativa comunitaria sono comunque società parificate a chi ha avuto una concessione a terzi in quanto per avere una società mista nel rispetto della normativa comunitaria bisogna aver vinto una gara a doppio oggetto cioè una gara che abbia d'oggetto sia l'acquisizione della quota di partecipazione societaria in una società pubblica sia l'attività oggetto della concessione. Questa prima differenza non l'abbiamo notata. La seconda differenza che speravamo di notare era tra le società efficienti e quelle inefficienti. Anche questo era un criterio contenuto nell'articolo 18 perché norme come quelle sul blocco delle assunzioni del personale l'articolo 26 del testo unico partecipate che prevede per fino al 2018 l'obbligo di assumere a tempo indeterminato solo da un listone di esuberi che dovranno fare le società. Cosa comporterà l'applicazione pratica di questa norma? A parte l'ovvia conclusione per cui probabilmente assumeranno tutti a tempo determinato e non indeterminato ma diciamo laddove si volesse pensare a una sua attuazione innanzitutto quando una società pubblica deve fare una lista degli esuberi e dice Giulia Chieffo è un esubero da quel momento dovrebbe essere licenziata Giulia Chieffo perché la società sta ammettendo che questa risorsa non non gli serve quindi perché continuare a mantenerla in servizio? Gli amministratori potrebbero anche essere accusati dalla Corte dei Conti di danno erariale quindi questa creazione di questo listone degli esuberi potrebbe diventare una grande procedura di licenziamento collettivo per le società che dovessero appunto avere gente in esubero. Dopodiché che succede? Che le società efficienti quindi quelle che hanno un bilancio che gli consente di effettuare assunzioni dovrebbero andare a pescare da questo listone le proprie le figure professionali che gli servono con l'unica eccezione di profili infungibili per i quali previa autorizzazione mi sembra del MEF potrebbero ricorrere a una procedura selettiva. Questo ovviamente sarebbe un aggravio di tempo, di costi, di procedure e non è detto che si riesca a concludere nei tempi in cui alle società servirebbero invece queste persone. Quindi l'applicazione di questa norma a tutte le società anche quelle efficienti potrebbe farle diventare meno efficienti perché il meccanismo purtroppo è un po' questo. anche sui consigli di amministrazione ad esempio capisco che posso dire una cosa impopolare però mettere un limite ai compensi esclusivamente per il fatto che la società è partecipata pubblica vuol dire dargli una valenza diversa rispetto a un operatore privato. Quindi vuol dire arrivare all'assunto che una società pubblica è diversa, peggiore, di una privata. Però a quel punto mi spiegate che la teniamo in piedi a fare una società se la dobbiamo gestire dallo Stato con le leggi? Cioè o è un operatore economico e fa la vita dell'operatore economico compreso il fallimento che per fortuna il testo unico ha chiarito che nell'articolo 14 mi sembra che le società pubbliche anche in house sono soggette al fallimento. Quindi vuol dire sarà il mercato a scegliere per loro. Quindi ci sono norme che noi assolutamente approviamo anche quello sull'obbligo di accantonamento in bilancio che c'era anche nella stabilità mi pare nel 2014 una norma ripresa per cui se una società è in perdita l'ente locale deve accantonare. Quindi cercare di responsabilizzare sicuramente, però inserire dei vincoli orizzontali non è salutare per le società efficienti. Un'ultima considerazione su... Due minuti. Sì, un'ultima considerazione, scusatemi, sono un po' prolissa, sulle aggregazioni. Le aggregazioni sono sicuramente importanti e anche noi ce le auguriamo. Ovviamente non dico che la spinta alle aggregazioni debba avvenire esclusivamente per legge perché sappiamo che così non è, però sicuramente qualche incentivo in più forse ce lo saremmo aspettati. Ci sono norme invece come per esempio quella sull'obbligo di separazione societaria che non incentivano le aggregazioni ma incentivano il proliferale di società. Perché nel momento in cui un'attività non è più possibile che venga svolta da una società partecipata oppure c'è l'obbligo di separazione non contabile ma societaria all'interno di una stessa società è ovvio che il numero di società è destinato ad aumentare e non a diminuire. Grazie. Io approfitterei anche per dare qualche commento, qualche risposta, visto che comunque svolgo anche una funzione di governo oltre che di governo di questo tavolo. Rispetto ad alcune vicende che poneva la dottoressa Chieffo penso che una valutazione sia il governo che il Parlamento la farà riguardo a quanto diceva per le società che hanno vinto gare, siano esse pubbliche o private e sulla disciplina che poi si applica conseguentemente e questo c'è una valutazione da fare. Non sono d'accordo e quindi su questo poi vedremo adesso anche le commissioni parlamentari come si esprimeranno per quanto riguarda i compensi degli amministratori perché è una politica che riguarda tutto il sistema degli incarichi pubblici e quindi penso che vada mantenuta. Sulle aggregazioni mi sembra di ricordare che noi abbiamo eliminato la norma che imponeva la separazione societaria e abbiamo invece messo una norma che consente di svolgere attività diversificate con una percentuale di fatturato. Comunque se è necessario magari ci si può ritornare anche per correggere la norma. Adesso darei la parola a Marco Pozzoni. Le regole d'ingaggio che non ho detto prima sono 10-12 minuti ad intervento. Grazie. Buongiorno, sono Marco Pozzoni, sono Associate Partner di Partners for Innovation e Senior Advisor degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Nello specifico io vi parlerò di quello che è un percorso di evoluzione che stanno vivendo oggi le in-house IT che sono, diciamo, quelli, possiamo considerarli degli attori fondamentali per quello che è, da una parte, il percorso di digitalizzazione dell'ente e quello che è invece il percorso di attuazione dell'agenda digitale a livello di sistema paese. Qual è quindi il contesto? Oggi effettivamente abbiamo in Italia 15 società in-house che sono interamente partecipate da regioni e province autonome e che forniscono appunto dei prodotti e dei servizi di natura informatica. Contano più di 4.500 dipendenti per un valore della produzione complessivo di più di 700 milioni. In realtà questo contesto, come saprete, è fluido, è notizia, per esempio, di inizio aprile della fusione in Emilia-Romagna tra l'Epida e Cup 2000 per andare a costituire quello che è un polo unico per lo sviluppo ICT della regione. Naturalmente questa è una nazione che arriva in risposta appunto a quelli che sono i cambiamenti normativi. cambiamenti normativi che nel corso degli anni hanno sempre spinto nella direzione di promuovere da una parte, se vogliamo, la concorrenza, dall'altra verso tematiche di efficienza e di razionalizzazione. È proprio su questi due elementi cardine che si fonda anche quello che è la modifica appunto all'articolo 117 della Costituzione che porta verso una centralizzazione delle competenze IT appunto della pubblica amministrazione per creare un punto di governo centrale che da una parte sia in grado di dare le linee guida, dall'altra anche di evitare quei rischi eventualmente di proliferazione, di soluzioni differenti, eterogenee, che rispondano ai medesimi obiettivi. Basti pensare ad esempio al tema del fascicolo sanitario elettronico. Naturalmente le riforme a livello normativo hanno un impatto molto forte in termini appunto di quello che è il ruolo delle in-house, quali sono le competenze che possono essere valorizzate e possono essere messe in campo per rispondere a quelle che sono le nuove esigenze del sistema paese. Quindi si pongono molti interrogativi nel momento in cui c'è una riforma a livello normativo e per rispondere a questi Assinter, quindi l'associazione per la società in-house IT italiana ha promosso una ricerca in collaborazione con Sdabocconi e Politecnico di Milano di cui tra l'altro Mauro Moruzzi è stato membro del comitato scientifico che ha coinvolto 14 delle in-house italiane e anche due a livello europeo sfruttando quello che è il network internazionale di Euritas. E quello che vorrei fare è condividere con voi una serie di messaggi che emergono da questa analisi. Il ruolo effettivamente delle in-house sta cambiando, sta cambiando da software house, quindi una società operativa ha invece un attore che ha l'obiettivo di qualificare e aggregare la domanda dei propri clienti, quindi è molto più orientata al cliente e diventa anche, se vogliamo, una sorta di consulente strategico per l'innovazione, per il proprio ente. Diciamo che la situazione è abbastanza eterogenea, nel senso che questo è un percorso di innovazione, è un percorso di cambiamento e le IT in-house non sono tutte allo stesso punto, alcune l'hanno già avviato, ci sono velocità diverse, altre l'hanno solamente programmato e questo percorso deve anche essere eletto rispetto a quello che è la delega, l'autonomia che viene fornita dall'ente alle diverse società, che noi abbiamo individuato tra autonomia operativa e autonomia strategica. Oggi il 28% delle IT in-house gode di un'alta autonomia operativa e anche di un'alta autonomia strategica e quindi si posiziona come partner per l'innovazione digitale del proprio ente, mentre le altre godono comunque di un'autonomia operativa molto elevata e sono quindi gli attori principali per quella che è l'attuazione della strategia digitale che viene definita dall'ente. Abbiamo riscontrato comunque un trend, quindi da, se vogliamo, puro esecutore di quelle che sono le specifiche, le necessità dell'ente, appunto verso una maggiore autonomia prima operativa e successivamente anche strategica. Gli obiettivi che comunque accomunano le diverse in-house sono sicuramente quelli di rispondere alle esigenze delle istituzioni ottimizzando quello che è l'utilizzo delle risorse umane, tecnologiche e soprattutto economico-finanziarie. Andando proprio a vedere quella che è la scomposizione del budget, guardandolo per ambito, quello che si nota, la cosa interessante, è che in realtà quasi il 60% del budget è adibito oggi non tanto a tematiche di infrastrutture e telecomunicazioni quanto a cercare di, da una parte, gestire quelle che sono le risorse disponibili al meglio e dall'altro sviluppare quelli che sono i servizi per i clienti interni ma anche per i clienti esterni dell'ente. Vista invece la scomposizione per natura di attività c'è un dato interessante che è questo 41% di risorse investite per progetti. Quindi se vogliamo possiamo considerarla anche una sorta di proxy di innovazione che viene portata dall'e-t-house per il proprio ente. Il dato ulteriormente interessante si è confrontato in realtà con il mercato privato perché spesso il budget IT dell'azienda vede una scomposizione di budget sui progetti intorno a circa il 30-35%. Anche il tema outsourcing, quindi quella che è l'apertura al mercato ha un cambiamento che sta caratterizzando questo percorso di sviluppo dell'e-t-house dal 2011 al 2014, quindi nel corso di pochi anni, in realtà l'outsourcing, quindi il ricorso al mercato è cresciuto dell'8% con investimenti in particolare in area naturalmente progetti e gestione di quello che è l'esistente e ricerca di competenze specifiche, di sviluppo, di applicazioni, di infrastrutture ma una delle competenze più interessanti e maggiormente ricercata è quella di data management e proprio la gestione del dato è uno dei temi fondamentali per la pubblica amministrazione ma in realtà non solo. In termini di organizzazione interna, perché giustamente il cambio di ruolo porta con sé anche un cambio di modello interno perché bisogna abilitarlo il nuovo ruolo, i messaggi forti che possiamo portarci a casa da questi risultati che sono emersi e che al netto di comunque un nucleo operativo quindi delle persone dedicate all'operatività che ancora è abbastanza elevato perché stiamo parlando di circa il 50% anche se ha avuto un calo la notizia interessante è questa crescita continua di quelli che sono i ruoli dedicati ai clienti interni stiamo parlando quindi dei demand manager che sono tipicamente diciamo nel 63% dei casi coinvolti nella definizione dei piani strategici dell'ente e in quella che è anche la priorizzazione degli interventi e degli investimenti che vengono fatti dai singoli enti. Il confronto con il privato è interessante perché si vede se vogliamo una fotografia che ci aspettiamo di trovare tra qualche anno all'interno delle in-house consideriamo che il mondo privato è partito molto prima con questo genere di cambiamento e tra l'altro non ha i vincoli che scontano le IT in-house nel processo di cambiamento. La mappa di quella che è le competenze presidiate dalle in-house in realtà rispecchia e ci dà gli stessi messaggi molti dei messaggi che abbiamo già trovato nel cambio di modello organizzativo quindi una crescita delle competenze manageriali. L'altro messaggio forte è questa base solida comunque di competenze tecnologiche che effettivamente sono un punto di forza delle IT in-house quindi quella che è la parte di progettazione, di gestione dell'architettura piuttosto che anche la gestione della sicurezza. In realtà questa possiamo anche considerarla come una base solida di competenza su cui riuscire a costruire e rapidamente quelli che sono nuovi servizi basti pensare alle tematiche per esempio di Smart City che bisogna attivare rapidamente e senza una base solida sotto, robusta difficilmente si riesce a fare in tempi rapidi e in modo efficiente. Qual è il quadro che ci portiamo a casa? Il quadro generale che emerge da quest'analisi che abbiamo svolto. Le IT in-house oggi effettivamente stanno cambiando ruolo stanno appunto passando da una realtà abbastanza operativa a supporto degli enti a invece un attore che è una sorta di consulente strategico all'interno dell'ente per quello che è la digital transformation. Il modello organizzativo di conseguenza sta cambiando come sta cambiando anche come sta cambiando anche l'approccio al mercato, l'apertura verso il mercato e alcune in-house hanno anche all'interno della mission la crescita, lo sviluppo di quello che è l'ecosistema di competenza locale. Quello che succede però è che giustamente anche prima quando il dottor Rugetti parlava di modello organizzativo il tema non è solo un modello organizzativo interno ma anche un modello organizzativo più esteso, esterno. Quindi andare a definire quelle che sono le modalità di collaborazione da prima con le altre in-house per sopperire a quella che può essere una mancanza di alcune competenze specifiche sul proprio territorio ma dall'altra parte non solo con in-house e pubbliche amministrazioni ma anche con quelle che sono aziende privati, quindi dei fornitori con i quali costruire delle partnership volte all'innovazione. L'approccio quindi, se vogliamo, diventa sistemico soprattutto considerando il tema di un governo centrale in cui, se vogliamo, questa necessità di efficienza e di razionalizzazione può portare le in-house a valorizzare le proprie competenze all'interno di un modello a rete che può essere utilizzato per lanciare dei servizi a livello sopra-regionale e garantire anche in modo coerente l'attuazione dell'agenda digitale. Grazie. Grazie, Dottor Pozzoni. Penso che sul tema dell'ICT possiamo fare veramente grandi passi in avanti come sistema pubblico perché in questi anni la frammentazione istituzionale, la frammentazione della spesa e dei progetti ha prodotto una grande dispersione di risorse. A tal proposito, alla Camera, in prima commissione è stata deliberata l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla spesa in ICT proposta dall'Onorevole Coppola e penso che avremo dei risultati utili sui quali ragionare e confrontarci. Passiamo adesso a Mauro Moruzzi, direttore scientifico CUP2000. Sì, buongiorno. L'intervento di Marco Pozzoni un po' mi ha facilitato perché in questa sede rappresento Assinter che è l'associazione delle aziende di information technology delle regioni, che sono 15 aziende che operano in Italia per conto di 15 regioni. Pozzoni vi ha illustrato le caratteristiche di questo network che effettivamente è abbastanza diverso dal resto delle partecipate pubbliche delle aziende cosiddette in-house. È anche una storia diversa. Queste aziende sono in parte il risultato di una trasformazione, aziende che occupano, come avete visto, 5.000 dipendenti, che hanno un fatturato di diverse centinaia di milioni e che operano proprio là dove più abbiamo bisogno in questo momento, cioè nel passaggio della pubblica amministrazione, in particolare della sanità, al mondo di internet, al mondo delle reti, al mondo dei servizi online ai cittadini. Dicevo, queste aziende derivano in parte dalla vecchia informatica nazionale. Voi sapete che in passato avevamo Italseel, Finseel, avevamo tutta una rete promossa dalle partecipazioni pubbliche nazionali che hanno per una serie di ragioni, forse anche con una certa lungimiranza, a partire dagli anni Ottanta si sono coniugate, si sono sposate con il sistema regione, creando una serie di, all'inizio, di società miste con le regioni, miste tra le partecipazioni statali e gli enti regionali, gli enti territoriali. Poi via via queste società sono diventate società in-house delle regioni e hanno subito trasformazione. Ora, noi dobbiamo porci il problema dell'informatica nazionale. È vero che non può essere affrontato come veniva affrontato ai tempi delieri, nemmeno ai tempi di Finseel. Dobbiamo però riscontrare che il problema di creare un forte driver che ci permetta di transitare nel mondo dell'alta comunicazione di Internet, incontrando i cittadini con i servizi online, è un tema aggiornatissimo. In questi giorni è uscito il rapporto della Commissione europea 2016 sull'Europa digitale e ci colloca ancora tra i 28 Paesi a un livello molto basso. Anzi, in questo rapporto si parla espressamente che l'Italia ha una serie di problemi per i servizi digitali che rapidamente deve risolvere e che i progressi in Italia sono stati al di sotto dalla media europea. Ora, il passaggio della pubblica amministrazione e quando parliamo di regioni, parliamo in particolare di sanità al mondo di Internet, dell'alta comunicazione, comporta sostanzialmente una rivoluzione nel sistema del medium comunicativo. Cioè si passa al dematerializzato. Cioè tutti i servizi avvengono via online, i certificati sono dematerializzati, come sta avvenendo adesso in tutta Italia con la ricetta rosa del medico, si va a un medium completamente diverso di rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Ora, questa rete, questo network di società in house, visto che oggi discutiamo, come ci diceva giustamente l'onorevole Ruggetti, discutiamo di questo testo unico sulle società partecipate e del decreto sulle società partecipate, l'attuazione dell'articolo 18, questo network può avere una particolare funzione in questo momento. come già veniva illustrato poco fa, è un gruppo di società che hanno subito, stanno subendo un certo tipo di evoluzione. Cioè diventano da uno strumento concepito fondamentalmente in modo sostitutivo del mercato. Perché il vecchio disegno degli anni 80-90 era un disegno che copriva una carenza di mercato. Come il mercato non è in grado di rispondere sul tema dell'informatica per la pubblica amministrazione, creiamo un sistema pubblico e in qualche modo era competitivo, alternativo al sistema di mercato. L'evoluzione è in atto invece di pensare a un driver che rafforza le competenze della pubblica amministrazione e che diventa proprio driver dell'investimento di mercato. Di recente Assinter ha stretto un accordo con le dieci maggiori società informatiche nazionali. Le conoscete, Engineering, Esprivia, Replay, insomma tutto il gruppo delle più importanti società informatiche nazionali e le 15 società in house delle regioni hanno fatto un patto che si chiama appunto un patto del Made in Italy col quale l'idea è assieme di industrializzare i servizi online con un particolare attenzione alla sanità. Il rapporto 2016 della Commissione europea richiama in particolare l'Italia ad avere una precisa strategia sul fascicolo sanitario elettronico perché ancora in sanità non si vede una strategia nazionale coerente per la diffusione del fascicolo sanitario elettronico che come sapete in regioni come la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Trentino in parte il Veneto, in parte la Toscana sta diventando uno strumento formidabile per pensare alla nuova sanità una sanità ad alta comunicazione con un livello di efficacia e di efficienza diverso dal passato. Allora questo driver è molto interessante perché se non è più competitivo col mercato può essere invece trainante dell'investimento pubblico e dell'industrializzazione noi abbiamo un'informatica nazionale eccellente da questo punto di vista l'interoperabilità italiana nei servizi della pubblica amministrazione e della sanità viene esportata negli Stati Uniti d'America che sono meno sviluppati di noi in termini di interoperabilità quindi possiamo pensare che questa industria nazionale che può dare tanti posti lavoro ai nostri giovani possa evolvere in un rapporto collaborativo con le strutture pubbliche che abbiamo ovviamente questo salto di qualità deve anche fare i conti con quello che sta avvenendo in Italia dopo il decreto, dopo le indicazioni del decreto ma dia cosa succede che un po' tutte le regioni vanno per loro conto cioè ogni regione un po' avvestito di arlecchino pensa a un diverso piano di riorganizzazione di queste società invece la cosa importante è che queste società devono avere un disegno coerente cioè essere effettivamente un elemento che raccoglie le competenze che oggi non sono presenti a livello degli assessorati non sono sufficienti per questo salto di qualità verso il mondo di internet e nello stesso tempo lavora come un network abbiamo l'agenzia digitale italiana la quale tra l'altro ha espresso un interessamento verso questo network di società potrebbe assieme al gruppo delle 15 società in al costituire un network fortissimo che accelera l'attuazione dell'agenda digitale ma dove in particolare? in particolare nel sud guardiamo uno dei servizi più importanti la sanità come sapete occupa l'80% del bilancio della regione bene, dal Lazio a nord la parte nord del paese si sta in qualche modo muovendo e sta investendo su una sanità online le regioni del sud sono in gran parte ferme con alcune lodevoli eccezioni parziali in Puglia e in Sardegna e questo non permetterà un decollo a livello nazionale di una nuova sanità ad alta comunicazione online questo network assieme al governo assieme all'agenzia centrale governativa assieme al ministero della sanità può diventare un network non solo di un banale riuso del software eccetera ma un network che mette a sistema un cambiamento complessivo a livello nazionale secondo me in qualche modo quindi bene il decreto le cose che Rughetti giustamente diceva fanno fare all'Italia un passo avanti queste misure però vanno indirizzate cioè non basta in qualche modo una naturale attuazione da parte delle regioni vanno indirizzate con l'obiettivo che noi stiamo mettendo in atto una trasformazione epocale cioè quello che noi facciamo la finanza l'ha già fatto il sistema bancario l'ha già fatto l'industria dei trasporti dell'aeronautica l'ha già fatto insomma i nostri aerei la Ryanair non prenderebbe il volo senza internet purtroppo la sanità ancora marcia con dei vecchi sistemi e dei vecchi medium noi dobbiamo ecco questa è un'occasione importante quindi non è soltanto un'occasione per razionalizzare il settore quindi evitare abbattere sprechi evitare assunzioni inutili abbassare degli stipendi certo tutto questo è anche importante e va assolutamente fatto ma è l'occasione per costruire uno strumento che ci permetta veramente di traghettare il nostro paese i servizi essenziali facevo l'esempio concreto della sanità verso un nuovo mondo che è un mondo ad alta comunicazione è un mondo dove il cittadino può accedere ai servizi esattamente come fa con il suo telefonino quando va su internet o va su google o cerca la posta elettronica grazie grazie addirittura in anticipo quindi perfetto faccio soltanto un commento rispetto alle competenze diciamo all'Europa digitale alle classifiche che sono uscite se avete cinque minuti andate sul sito dell'Agid guardatevi uno studio sull'utilizzo di internet in Italia dovuto a tante motivazioni non ultima l'età media della nostra popolazione ma noi abbiamo oltre il 35% dei nostri concittadini che non ha mai avuto accesso ad internet e questo è un gap importantissimo e il secondo guardate l'utilizzo di internet il 66% lo utilizza o per i social che sono al primo posto o per leggere online quindi notizie o siti ancora non abbiamo la consapevolezza che invece è uno strumento di lavoro per accedere a servizi veri la seconda cosa che volevo dire riguarda l'accordo che avete siglato con i partner e con gli imprenditori privati penso che sia importantissimo noi stiamo stimolando accordi di questo genere perché ad esempio in tema di ANPR Anagrafe della Nazionale della Popolazione Residente se noi non riusciamo a fare in modo che l'offerta di servizi verso i comuni sia omogenea sarà impossibile avere 8.044 comuni entro quest'anno che passano dall'attuale sistema all'NPR e sapete tutti che se non riusciamo ad andare sull'NPR vuol dire che quasi tutta l'agenda digitale resterà al palo quindi per noi questo è un progetto importantissimo passo la parola adesso a Ivana Paniccia esperto esterno dell'autorità di regolazione dei trasporti grazie Sì, grazie, buongiorno Nello scorrere i testi unici sia delle partecipate che servizi pubblici locali mi sono chiesta se il mandante di molte norme non fosse proprio il trasporto pubblico locale TPL quando il sottosegretario citava le perdite accumulate nel 2013 dall'insieme da questo insieme di società sicuramente una grossa incidenza l'hanno avuta le perdite di una grossa società del trasporto pubblico ATAC 213 milioni di perdite nel 2013 ma il mondo del trasporto pubblico è un mondo anche molto variegato dove non tutte le società sono in perdita ci sono situazioni differenziate anche di efficienza e per questo appunto è nata anche l'autorità dei trasporti e il TPL presenta anche alcune specificità che richiedono di essere considerata nello scrivere le norme detto questo sicuramente il testo unico fa un grosso passo avanti contiene numerose innovazioni e novità positive sia quello partecipate sia quello servizi pubblici che aiutano anche nel settore mi riferisco in particolare agli interventi sulla governance sulla semplificazione delle governance delle strutture societarie dei CDA l'amministratore unico ha più senso in società dove non c'è una pluralità di interessi da rappresentare ma appunto c'è coincidenza positiva è anche la norma all'articolo 14,6 che di fatto per sintetizzare vieta le bad company in caso di ristrutturazione e razionalizzazione diciamo un po' tutta la governance coglie diciamo tutti gli interventi sulla governance colgono nel segno vanno nella direzione di semplificare e di qualificare meglio il modello della società pubblica quindi anche i compensi anche la riduzione dei compensi è coerente con quest'idea di società pubblica e con la missione che hanno le società naturalmente bisogna chiedersi se valutare queste norme anche in una prospettiva evolutiva rispetto all'evoluzione soprattutto dei mercati sui quali impattano e allora proprio il fatto che le regole portino così a una stabilizzazione dell'in house soprattutto del modello in house ci porta un po' a chiedere se questo è un fatto sempre positivo o se non possa costituire un qualche ostacolo non possa creare qualche ostacolo all'evoluzione anche di questo modello che io ritengo abbastanza transitorio transitorio rispetto al mercato al passaggio al mercato e quindi alle gare e allora in questa valutazione non posso che notare una certa torsione di alcuni strumenti che sono inseriti nel testo unico torsione verso una strumentazione di tipo economicistico e ragioneristico nel senso una eccessiva attenzione agli aspetti contabili delle imprese più che alla loro alla funzione che queste imprese svolgono mi spiego con un esempio sicuramente le perdite sono sono da collegare possono essere collegate anche a inefficienze a costi eccessivi però è anche vero che le perdite diciamo le cattive performance di un'impresa possono essere legate anche ad alcune disfunzionalità della pubblica amministrazione stesso questo è vero per le società strumentali e per le società dei servizi pubblici mi riferisco a che cosa? ai meccanismi di spesa quindi ai meccanismi con cui funziona la finanza centrale e locale in questo caso parliamo di quella locale le aziende del trasporto pubblico locale pagano per causa dei ritardati pagamenti da parte delle regioni e poi dei comuni per quindi ritardati e mancati trasferimenti di risorse pagano interessi molto rilevanti sempre per tornare all'esempio di ATAC che facevo prima nel bilancio di questa società troviamo interessi per la voce interessi che pesa dai 50 ai 30 milioni l'anno quindi incidono anche questi fattori anche se nel testo unico c'è comunque uno sforzo per reggimentare i contratti di servizio e le compensazioni che vanno riconosciute a queste aziende però ecco l'idea è che forse un intervento sulle società partecipate non può che non ricomprendere come d'altra parte nella prospettiva un piano di riorganizzazione della pubblica amministrazione dei suoi meccanismi anche dei meccanismi di spesa ho fatto riferimento prima alle specificità di questo settore che è un settore che come altri si confronta con la concorrenza con la concorrenza di altri operatori anche con la concorrenza tecnologica anche nel TPL si affermano nuovi modelli di business proprio ieri Jeremy Rifkin faceva riferimento a nuovi modelli di competizione, di organizzazione delle imprese quindi il famoso modello Uber e car sharing i modelli dell'economia condivisa seguire queste innovazioni chiede comunque una trasformazione delle stesse imprese che forse nelle gabbie del modello in house forse non riescono più a rimanere ma soprattutto la competizione almeno diciamo nel medio termine si gioca con competitori che sono almeno nel mondo del trasporto pubblico sono anch'essi operatori pubblici cioè al momento il mercato italiano è costituito soprattutto da imprese pubbliche alcune locali e quindi sottoposte ai vincoli del testo unico partecipate altre società italiane o estere sono ugualmente pubbliche ma escono fuori dall'ambito di applicazione del testo unico questa asimmetria quindi doppio regime che c'è tra le locali di proprietà comunale e le società che invece sono a controllo statale che in virtù della emissione di strumenti finanziari non abbiamo quotate nel settore dei trasporti quindi non vediamo l'affermarsi di un modello di multi utility e non solo non abbiamo le quotate ed è anche un settore nel quale prevale un modello di sviluppo verticale quindi non le multi utilities ma la integrazione in più segmenti della stesso settore all'interno del TPL o della mobilità in generale ebbene questa configurazione del mercato va tenuta in considerazione anche in un testo legislativo di questo genere proprio per non creare delle asimmetrie artificiose tra operatori che hanno meno vincoli in particolare quelli sul personale sono effettivamente rilevanti rispetto ad altri operatori che magari potrebbero decidere di affacciarsi sul mercato e allora ecco si menzionava prima questa possibilità di rivedere di differenziare un po' le regole in relazione all'esposizione al mercato ecco questo è sicuramente positivo anche nel TPL perché questo consente anche in prospettiva di ridurre le asimmetrie un conto sono le società in house un conto le società anche locali che si confrontano con il mercato nel fare riferimento ai vincoli però non volevo includere nel fare riferimento ai vincoli invece quelli sulla trasparenza che invece anche nel testo unico sono richiamati cioè si fa un rimando appunto al decreto legislativo 33 quindi sottoponendo tutte le società alla trasparenza bene questo è un elemento positivo che è connaturato allo statuto pubblico delle società pubblico nel senso rispetto all'erogazione di servizi pubblici che impattano in maniera rilevante sulla vita dei cittadini è quindi necessario che i cittadini conoscano bene come i servizi vengono erogati con quali performance, con quali risultati questo tanto più vale anche per quando la società è locale il cittadino vuole sapere anche come nel caso della TPL dove i costi sono coperti da contributi pubblici non solo dalle tariffe e quindi siamo anche noi contribuenti a coprire i costi non solo l'utente è importante che il cittadino conosca come l'azienda viene gestita come funziona la governance come i servizi vengono con quali risultati anche di efficienza rispetto a questo non ci sono non si rilevano problemi di riservatezza di segreto industriale questo d'altra parte è ciò che avviene anche in altre imprese in altri paesi europei e quindi ecco vorrei proprio finire con questo richiamo quindi specificità ma non dimentichiamo sono imprese pubbliche con uno statuto quindi che deve essere diverso da quello delle altre società che erogano servizi di altra natura e per questo il testo unico ben fa risaltare questa specificità grazie 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 il TPL riceve importanti contributi pubblici è così in tutte le parti del mondo il rapporto nostro tra contributi pubblici e efficienza non è altissimo e questo forse è l'equilibrio sul quale dobbiamo lavorare sapete che sul decreto legislativo dei servizi pubblici locali il Consiglio di Stato ha espresso una riserva rispetto alla parte relativa proprio al trasporto pubblico locale perché ha ritenuto che la delega diciamo non consenta al governo di operare una riforma così importante come quella che è contenuta nella bozza di decreto legislativo vediamo adesso le commissioni parlamentari che si esprimeranno che indirizzi ci daranno passo adesso la parola a Giuseppe Sgaramella che è il direttore dei rapporti istituzionali di Acea Buongiorno grazie onorevole Rughetti qualche breve accenno soprattutto a beneficio dei non romani su che cos'è Acea ma forse anche a beneficio di qualche romano che non conosce l'evoluzione degli ultimi anni di questo gruppo cioè S.P.A. è la capogruppo di un gruppo di imprese operanti non soltanto qui a Roma ma sul territorio di ben quattro regioni italiane Lazio ovviamente Toscana, Umbria e Campania è il maggiore operatore nazionale nel servizio idrico integrato ed opera nei settori dell'energia per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica qui nel comune di Roma e nel comune di Formello nel settore della vendita di energia elettrica e gas e nella produzione di energia del teleriscaldamento l'ultimo settore che si è aggiunto a quelli tradizionali è quello del Waste to Energy abbiamo impianti di termovalorizzazione sia qui nel Lazio San Vittore sia a Terni dove abbiamo un termovalorizzatore di palpe detti questi brevi cegni su ASEA mi sento di poter esprimere un plauso all'operato del Governo per quanto riguarda la produzione di questi due testi unici società e servizi pubblici locali di cui ci si occupa in questo periodo in particolare rilevo che non era facile l'opera del Governo perché la delega era abbastanza restrittiva in quanto prevedeva di dover realizzare un coordinamento delle disposizioni vigenti come sanno gli operatori del settore disperse in un patrimonio normativo vastissimo alla risoluzione degli antinomie che è proprio frutto di questa dispersione storica l'individuazione di norme da abrogare ma questo effettuando le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento di tutto ciò bene quello che esce è un tessuto comunque organico e devo dire dal mio punto di vista finalmente non dovremo correre alla ricerca delle norme applicabili quelle non applicabili o parzialmente applicabili la scelta operata è una scelta per così dire a cannocchiale nel senso che l'applicazione del testo unico è via via maggiore man mano che il modello societario adottato dagli enti si distacca da quello privatistico di mercato quindi in cima a questa piramide ci sono le società quotate in borsa sono quelle per le quali si applica sicuramente il minor numero di disposizioni sono veramente poche perché che cosa accade per queste imprese si applicheranno le disposizioni del codice civile e quelle specifiche proprie delle società delle società quotate a questo proposito mi piace anche evidenziare un ulteriore fattore positivo cioè il fatto che l'estensione delle norme applicabili quindi poche norme applicabili del testo unico viene operata anche viene prevista anche nei confronti delle società partecipate e anzi da questo sotto questo profilo sottolineo che c'è l'invito sul quale sono assolutamente concorde da parte del consiglio di stato di estendere l'applicazione di queste disposizioni anche dove vi sia una partecipazione degli enti locali purché indiretta credo che sia ragionevole questa questa soluzione poi forse andando a vedere gli esempi onorevole i rughetti sono pochi che si possono fare perché anche per esempio guardando in casa nostra nel gruppo ACEA le società che hanno come soci gli enti locali sono appunto società che hanno gli enti locali e non soggetti non sono mediati gli enti attraverso società che rappresentano l'azionariato in loro possesso quindi a queste aziende non si andrebbero ad applicare tuttavia è una cosa che in assoluto mi pare assolutamente assolutamente positiva darei qualche notizia di carattere economico finanziario per introdurre il tema con cui poi vado a concludere questo mio brevissimo intervento sono dati che provengono da Utilitalia che è l'associazione rappresentata dalla dottoressa Chieffo che ha parlato per prima e che diciamo rappresenta le imprese dei settori idrici ambiente ed energia allora in base ai dati in possesso dell'associazione le aziende con patrimonio netto superiore ad un miliardo sono soltanto quattro e sono tutte quotate una di queste è appunto ACEA queste quattro società generano il 40,9% del valore della produzione del settore ed occupano il 26% degli addetti tutte le altre aziende più piccole generano circa il 32% del valore della produzione e occupano circa il 46% degli addetti lascio a voi le valutazioni in termini appunto di efficienza di queste grandi imprese andando poi sul tema multiutiliti o monutiliti le multiutiliti sia quotate che non quotate generano un utile pari al 72% di tutto il comparto le monutiliti soltanto il 28% volendo poi focalizzare l'attenzione sul servizio idrico integrato dove come voi sapete c'è stata negli anni una opera che parte dalla legge Galli di aggregazioni di una probabilità di operatori i 115 gestori del servizio idrico integrato secondo le indicazioni della legge Galli quindi operatori di ambito generano un valore della produzione pari a circa 8 miliardi di euro questo rappresenta il 73% del valore della produzione di tutto il comparto e pensiamo che il resto del comparto è costituito da 1.125 operatori dove 168 sono gestioni di natura societaria quindi ma comunque diversa da quelle dei 115 operatori del servizio idrico e 1.957 sono ancora servizi in economia queste 115 imprese però rappresentano effettuano il 70% degli investimenti sul territorio nazionale il che significa sviluppo del servizio ancora ieri leggo qui il take d'agenzia di CRIF l'esito l'esito di una ricerca effettuata da questo centro che riguarda le 100 principali aziende del servizio indirico ci dice che gli indicatori di redditività produttività e indebitamento presentano una chiara tendenza al miglioramento al crescere delle dimensioni e della patrimonializzazione a testimoniare il beneficio che può generare dalla crescita dimensionale delle gestioni minori la crescita del patrimonio netto aumenta anche la capacità di realizzare gli investimenti le realtà più patrimonializzate investono di più e presentano una migliore capacità di onorare i finanziamenti accesi tutta questa lunga premessa sottosegretario è per dire che se un neoproprio lo possiamo trovare all'interno del testo sulle società di cui ci occupiamo oggi ma anche nello stesso modo sul testo sui servizi pubblici locali è proprio nella mancanza di un'adeguata spinta normativa alla aggregazione degli operatori probabilmente si poteva cercare di fare uno sforzo in più ma certamente ciò che va evitato è seguire questa volta il consiglio del consiglio di Stato scusate il bisticcio di parole che chiede di espungere le norme sulle aggregazioni dal testo unico sui servizi pubblici locali sarebbe una scelta incoerente sarebbe una scelta anche che va contro la stessa legge delega che tra i vari principi e criteri direttivi inserisce appunto quello dell'aggregazione se proprio non è possibile introdurre un qualche cosa perché abbiamo un vincolo come detto all'inizio cioè delle modifiche strettamente necessarie io credo che un punto di semplificazione possa essere quello di attribuire alle giunte degli enti locali in coerenza con ciò che avviene per gli altri livelli di governo territoriale regioni e poi a salire il governo il compito di consentire l'aggregazione delle proprie imprese anziché passare attraverso i consigli comunali che sappiamo comportano tempi decisamente diversi e più lunghi grazie per l'attenzione grazie grazie dottor Garamella grazie per i suggerimenti rispetto alle aggregazioni diciamo noi abbiamo fatto un lavoro dal punto di vista istituzionale nel cercare di mettere insieme la legge del Rio e in questo caso il testo unico sui servizi pubblici dicendo che ci devono essere dei bacini minimi di ambito provinciale c'è un altro punto della delega che ancora non è stato attuato che riguarda invece degli incentivi di carattere economico finanziario anche da realizzare attraverso delle strutture quindi consulenza e fondi per entrare nei capitali e agevolare l'aggregazione ma è un tema sul quale si sta ragionando e quindi non è ancora chiuso io penso che il tentativo ringrazio tutti i relatori intanto per i suggerimenti e le valutazioni che sono state fatte confermo quello che era un po' quello che dicevo sommessamente in introduzione gli obiettivi che sono stati dati la dottoressa Chieffo parlava di 8 mila a mille è una scommessa sulla quale siamo tutti impegnati tenete conto che avvicinandosi alla conoscenza del sistema delle partecipate stiamo trovando tante anomalie sulle quali dobbiamo ragionare insieme noi non abbiamo da questo punto vista la presunzione di voler calare dall'alto delle soluzioni ma abbiamo però la necessità di fare in modo di evitare di buttare il bambino con l'acqua con l'acqua sport come si suol dire ma anche di rompere degli schemi perché quando noi abbiamo 3 mila società che hanno un numero di dipendenti inferiore al numero di consigli di amministrazione o abbiamo mille società che hanno un numero di dipendenti pari a zero è chiaro che la domanda se queste società servono alle comunità locali o servono a chi ci sta dentro è una domanda retorica che ha una risposta immediata quindi su questo l'invito che noi abbiamo fatto a tutti gli altri livelli di governo è di lavorare insieme per cercare di alzare il livello della qualità delle partecipazioni e farle rientrare all'interno di una nuova visione dell'azione pubblica abbiamo fatto questo cercando non cercando non avendo una posizione ideologica sui affidamenti a differenza diciamo di quanto è avvenuto un po' nel passato gli interventi che sono stati fatti la dottoressa prima diceva una visione economicista su questo diciamo non sono molto d'accordo noi abbiamo giudicato le aziende distinguendo intanto le partecipazioni dai servizi pubblici locali perché i servizi pubblici locali ci siamo resi conto finalmente in questo paese che sono delle cose sono dei prodotti industriali che hanno bisogno prima di tutti di una struttura organizzativa che sia in grado di realizzarle queste attività e il bilanciamento e l'equilibrio che va trovato è tra l'insieme delle cose che metto insieme scusate il giro di parole per produrli e la tariffa quello che fa la differenza la qualità del servizio è la tariffa che pago poi è chiaro che dentro ci si mettono dei covenant che possono riguardare problemi di carattere etico e quindi ci mettiamo le retribuzioni dei dirigenti e dei manager ci possiamo mettere delle spinte per le aggregazioni ma il nostro obiettivo era questo e nel modo in cui l'abbiamo disciplinato abbiamo detto non mi interessa più privilegiare un determinato l'in house la mista o la gara a me quello che mi interessa è che ci sia una buona qualità del servizio e una tariffa compatibile con esso oggi nonostante il lavoro e lo sforzo che hanno fatto fino ad oggi le autorità di regolazione non sempre abbiamo raggiunto questo obiettivo soprattutto quando abbiamo dei microsistemi per esempio nelle miste scusate nelle multi utilities molte volte troviamo delle compensazioni interne che poi si riflettono sulle tariffe perché ci sono alcuni settori che tirano utili che consentono alla società di coprire un pezzo delle perdite che invece avrebbero in altri settori su questo il decreto legislativo è già abbastanza chiaro ma sull'acqua voglio ridirlo anche qui non c'è nessun passo indietro rispetto al referendum perché il referendum non ha stabilito che l'acqua è pubblica che qualcuno continua a dirlo il referendum ha stabilito due principi che riguardano la modalità di gestione che non è più esclusiva e la forfettizzazione della remunerazione degli investimenti sono due cose che non vengono toccate dal decreto legislativo e quindi su di esse ci sarà conferma nel testo che sarà approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri un'altra scelta importante che non è stata oggi sottolineata per motivi di tempo riguarda il fatto che i servizi pubblici locali diventano nella parte regolatoria funzione fondamentale dei comuni e diventano una volta che la comunità sceglie di continuare a garantirli dei servizi di carattere universale e questo non è un fatto indifferente perché vuol dire che diventano va garantita l'accessibilità la continuità e la mancanza di discriminazione e quindi chi si assume poi la responsabilità di portare avanti questa tipologia di intervento sui servizi pubblici di interesse economico generale deve anche mettere in campo tutte le azioni amministrative e non che servono per garantire questo raggiungimento quando chiediamo per l'inaus di mandare il piano industriale della società alla Corte dei Conti o all'autorità per la concorrenza il motivo che c'è sotto è questo cioè avere comunque una garanzia che ci sia una solidità nello sviluppare che non sia soltanto un fatto politico di una comunità o diventi soltanto una scelta tra virgolette ideologica forse qualcuno lo ha detto io non sarei in disaccordo bisognerebbe valutare di sottoporre alla stessa procedura anche i capitolati per le gare perché diventando il capitolato quando si fa la gara l'elemento determinante sul quale poi si fa la scelta del nostro contraente e che determinerà poi tutta una serie di conseguenti non ultimo la tariffa potrebbe essere utile acquisire il piano non tanto della Corte ma soprattutto dell'autorità acquisire appunto il parere chiudo con una osservazione più di carattere generale perché abbiamo deciso di prendere di aprire un cantiere così importante non è una valutazione di merito non vi sto dicendo che è una grande riforma perché è fatta bene sto dicendo una valutazione oggettiva cioè del fatto che se voi guardate la legge di delega e i 25 decreti legislativi che alla fine ci saranno ci mettete a fianco il decreto legge 90 e la 124 per una serie di interventi che già sono nati a destra e sinistra c'è la legge 56 e la riforma costituzionale è un intervento molto ampio e molto complesso ed è una scommessa sul sistema pubblico e questa scommessa è una scommessa che è stata autoindotta nel senso che non abbiamo avuto come dire pressioni da parte dell'opinione pubblica come è stato fatto per esempio in altri settori pensiamo al mercato del lavoro pensiamo al livello della pressione fiscale è stato autoindotta perché il governo pensa che la pubblica amministrazione e in generale il sistema dei servizi pubblici locali possa far la differenza cioè è finito il tema il tempo nel quale si pensava che la PA fosse una roba del fannullone e quindi era una cosa inutile ci sono studi internazionali basta che vi guardate Boston Consulting oppure c'è un bellissimo libro ormai anche un po' vecchio di Enrico Moretti sul nuovo mercato del lavoro che vi danno una dimostrazione plastica di come cambiano la qualità della vita e la competitività dei territori a seconda che il sistema pubblico funzioni o meno soprattutto nel campo del digitale diciamo ci sono delle crescite esponenziali dei fatturati crescite esponenziali delle retribuzioni dei dipendenti crescite esponenziali della spesa pubblica in materia di ambiente sanità cultura quindi vuol dire che quando c'è un sistema pubblico che funziona può fare la differenza e allora l'impegno che c'è dietro queste riforme risponde a questo obiettivo cioè risponde all'obiettivo che noi un paese che ha 800 miliardi di spesa pubblica la metà della ricchezza che produciamo ogni anno se è in grado di fare in modo che questo sistema pubblico si metta sempre di più al servizio delle comunità delle imprese possiamo fare il salto di qualità e soprattutto possiamo dare a tutti i nostri cittadini delle risposte uguali in qualsiasi territorio dove abitano il principio della clausola di supermazia che è nella riforma costituzionale i poteri sostitutivi che sono la riforma costituzionale e in altri provvedimenti compreso questo qua tolgono un po' dalla disponibilità dei decisori politici territoriali e nazionali la sorte e il destino di alcune comunità uno non può essere penalizzato perché ha una regione che non è in grado di fare banda larga o erogare servizi pubblici locali in materia sanitaria di qualità allora dobbiamo come comunità come sistema istituzionale alzare l'obiettivo bagno di umiltà da parte di tutti derubricare la forza e le funzioni di ciascuno e mettere invece a fattore comune tutta la spinta che possiamo dare ecco questo è il motivo per cui si sta facendo tutto questo sicuramente ci saranno misure che potranno essere migliorate e nei prossimi giorni già la commissione prima al senato e quinta alla camera stava studiando il testo unico sulle partecipate adesso arriverà il testo unico anche sui servizi pubblici locali gli altri 9 sono tutti in discussione gli altri 8 uno è già stato licenziato questo è il primo blocco il secondo blocco arriverà entro metà giugno il terzo arriverà entro la pausa estiva è un pezzo importante di questa riforma contiene tante misure alcune delle quali potranno essere migliorate ma io penso che se la guardate nell'insieme il cambio di marcia è un cambio di marcia importante e notevole non è un cambio di marcia auto applicativo non è una cosa che succederà da sola questa riforma ha bisogno degli operatori ha bisogno dei sistemi territoriali ha bisogno delle istituzioni territoriali che hanno il compito di curare l'ultimo miglio perché se noi non riusciamo a legare il progetto l'innovazione il provvedimento normativo con i fatti poi conseguenti sui territori rischiamo che anche questa resti una bellissima legge scritta ma non trovi poi completezza sulla sua applicazione buon lavoro e buon forum PA a tutti quanti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti